ok come dicevo buongiorno a tutti benvenuti al corso di applicazioni web 1 per gli studenti il cui cognome è mz e io sono luigi da russis sono il docente di questo corso e insieme a me ci sarà luca mannella che evidenziata qui in grassetto anche lui in questa slide che invece seguirà con voi i laboratori e il corso come vedete dai nomi delle persone presenti sulle slide e anche dal titolo e in realtà magari lo sapete è parallelo esiste questo corso in italiano esiste il corso in italiano al esiste anche il corso in inglese che si chiama web application 1 ma i tre corsi al netto del team di docenti ed esercitatori che segue che cura il corso i corsi hanno lo stesso materiale quindi condividiamo lo stesso materiale le stesse regole le stesse metodologie lo stesso condividiamo tutto se non appunto la persona che tiene le lezioni e le persone che saranno presenti per i laboratori allora qual è l'obiettivo di questo corso beh l'obiettivo è sicuramente quello di farvi capire che cos'è il web farvi capire che cos'è il web cosa vuol dire progettare un'applicazione web e lavorare all'interno di un'architettura web essendo per molti il primo e per molti anche l'ultimo corso di web quantomeno al politecnico quindi vedremo come si progetta ma anche come si sviluppa questo sarà un corso molto tecnico da quel punto di vista come si sviluppa un'applicazione web utilizzando javascript come linguaggio di programmazione per tutto e in aggiunta diventando familiari con uno dei framework delle librerie per javascript più popolari al momento più utilizzate che è appunto react ma questo lo vedremo durante il corso questo corso avrà un focus però particolare sul front end quindi su quello che in certo senso le persone vedono all'interno del browser non tanto sul back end non tanto sui server per quello ci ci sono anche al politecnico altri corsi e che adesso vi racconto brevemente useremo javascript come dicevo come unico linguaggio e partiremo a imparare javascript come linguaggio di programmazione già oggi proprio perché è un linguaggio che sicuramente framework come react usano e quindi bisogna impararlo bisogna saperlo usare bene ma è comunque uno dei tre linguaggi insieme ad html css che i browser capiscono quindi bisogna avere comunque una conoscenza di javascript quando si lavora per il web indipendentemente poi eventualmente dal linguaggio che si sceglie nel server nel front end nel back end allora questa brevemente è una la bigger picture una una visione di insieme dei corsi di dove siamo noi dei corsi al politecnico e per ingegneria informatica e come sono stati pensati no i collegamenti tra i vari corsi beh noi sicuramente siamo qui come vi dicevo sono tre corsi due in italiano in inglese perfettamente allineati e si concentrano su soprattutto sul front end quindi quello che appare quello che funziona all'interno del browser e si si concentra su javascript e a qualche introduzione all'architettura web dove andare dopo ma come vedete qui ci sono varie alternative questi sono tutti corsi offerti ovviamente al al politecnico e da applicazioni web 2 beh c'è un passaggio perché interessato al mondo web e in distributive system programming che affronta l'architettura distribuiti protocolli e poi web application 2 che come dice il nome è in seguito un pochino di web application 1 e si preoccuperà invece del back end non tanto del front end quindi costruirà su quello che si costruisce in questo corso se invece volete altri tipi di un altro approccio un altro giro diciamo rispetto a questo da web application 1 potreste prendere il corso di human computer interaction che di nuovo sì che rimane concentrato sul front end e non solo web e si preoccupa di usabilità di interazione tra l'uomo e il computer tra cui appunto anche siti web applicazioni web con un approccio centrato appunto di progettazione centrata sulla persona un approccio molto pratico e anche che gli studenti mettono in uso durante l'intero corso dal corso di human computer interaction o anche dal corso web application 2 poi c'è anche il corso di mobile application che è un corso di nuovo di front end soprattutto ma mobile e di mobile device quindi questo corso come vedete ha alcuni collegamenti forti se si segue il giro della rete per esempio o anche magari un po meno forti ma viene utilizzato come può essere utilizzato come anche prerequisito può essere utilizzato come base di partenza da altri corsi nel vostro orientamento alcuni corsi questi rossi se non sbaglio sono obbligatori o comunque consigliati per l'orientamento reti gli altri invece sono scelta penso per quasi tutti però al di là di questo è giusto per darvi una visione di insieme di dove questo corso si può collocare nel vostro percorso di studi tra questo e l'anno prossimo cosa impareremo non in quest'ordine o quasi non in quest'ordine beh durante il corso come vi ho detto impareremo javascript javascript come un linguaggio di programmazione vero e proprio quindi non tanto un linguaggino di script per fare una piccola animazione su web ma proprio come linguaggio di programmazione e inizieremo oggi a imparare javascript come linguaggio di programmazione in particolare ci concentreremo sulla versione di javascript che si chiama s6 che è una versione del 2015 e che ha portato diversi cambiamenti diverse aggiunte a javascript come linguaggio di programmazione facendolo maturare molto e quindi parleremo di costrutti del linguaggio di delle vari approcci funzionali programmazione asincrona modulare eccetera poi ci sposteremo sul sull'ecosistema del browser quindi in un certo senso utilizzare javascript per il web per all'interno di un browser e quindi parleremo sicuramente di javascript nel browser parleremo anche di html di css di nuovo gli altri due linguaggi che il browser riesce a a capire a tradurre a utilizzare insieme a javascript e parleremo anche degli eventi delle proprietà che sono proprie del browser tutto questo sono ovviamente linguaggi standard e quindi ampiamente compatibili ampiamente funzionanti anche appunto a un po più lungo termine poi ci muoveremo sulle single page application come metodologia di programmazione contemporanea di applicazioni web e in particolare sul framework react quindi vedremo tutti i componenti come si costruisce un'applicazione react come si fa partire eccetera infine aggiungeremo al nostro applicazione react un server un piccolo server semplice quindi tutto questo javascript come linguaggio l'ecosistema del browser e react framework sono in un certo senso il nostro front end e poi ci aggiungeremo un pochino di back end con node che di nuovo è un framework che si utilizza in javascript e vedremo un pochino di sviluppo di api useremo un database come storage di informazioni e avremo poi un quello che che tutti i siti web che tutte le applicazioni web hanno quantomeno la maggior parte forse non tutte è che è il login della registrazione di un nuovo utente quindi come ti sia autentica rispetto a un server quindi come ci sia autentica per fare certe per avere certe informazioni per poter scrivere avere i permessi per scrivere certe informazioni sempre a overview questo è il programma del corso e se siete già andati sul sito avete potete trovare anche calendario dell'appunto del corso che fino al momento è pieno fino a pasqua poi lo riempirò man mano che procederemo con le settimane ma l'idea appunto che per le prime due settimane quindi questa è la prossima quindi tre ore oggi tre ore giovedì tre ore lunedì prossimo e tre ore giovedì prossimo e lavoreremo su javascript come linguaggio di programmazione quindi introduzione gli oggetti le funzioni settimana prossima il callback e anche un po di programmazione a programmazione asincrona e poi in coda la settimana dovremmo riuscire a fare anche un po di introduzione al web all'architettura web in generale prima di partire poi con il browser react e aggiungere quella piccola parte di server side come vi appena raccontato qual è l'organizzazione del corso come solito se avete domande qualcosa di poco chiaro in questo momento abbiamo due chat quindi scrivete in una delle due oppure io ho un secondo monitor qui sulla mia sinistra per cui se anche alzate la mano volete accendere il microfono e me ne accorgo e non c'è problema e abbiamo l'organizzazione del corso e attendere a regime avremo tre ore di lezione a settimana il giovedì lo avrete già visto dal calendario che saranno sempre fatte su zoom sempre su questo stesso indirizzo e mischieranno lezione ed esercitazione non ci sarà un'ora e mezza sempre dedicata agli esercizi o un'ora e mezza sempre dedicata alle lezioni ma ogni tanto saranno magari tre ore di esercizi tre ore di lezione oppure un'ora e mezza un'ora e mezza vedremo in base a dove siamo all'interno del corso essendo online ci dà anche questa possibilità di gestirci le cose come un po vogliamo come c'è bisogno i laboratori invece saranno tipicamente al lunedì oggi no neanche la settimana prossima inizieranno dalla terza settimana il laboratorio del lunedì il primo avremo due turni il primo turno ogni laboratorio dura un'ora e mezza il primo turno è online su zoom sono indirizzi che poi vi daremo e invece secondo turno sarà in presenza in aula r3 che sono aule nuove in via borsellino quindi essenzialmente chi potrà o vorrà venire in presenza perché magari poi dopo vorrà rimanere in presenza a seguire le lezioni in aula r3 e potrà venire nel turno in in presenza tutti gli altri possono rimanere invece nel turno online i laboratori saranno identici quello online e quello in presenza svolgeranno le stesse attività a differenza delle lezioni inoltre i laboratori non saranno video registrati proprio perché l'idea che nei laboratori che voi lavoriate che voi sviluppiate che voi chiediate i problemi man mano che chiediate delucidazioni sui problemi man mano che li li trovate e per i laboratori quest'anno se qualcuno di voi ha parlato con qualche vostro collega dell'anno scorso e quest'anno cambiamo un po e quest'anno avremo tre laboratori normali diciamo che durano un'ora e mezza previsti da fare in quell'ora e mezza e poi due che abbiamo chiamato big lab quindi grossi laboratori che sono sono big perché durano quattro settimane ciascuno e quindi un laboratorio che inizia la settimana facciamo pinta quattro e finisce la settimana sette e quindi sei ore di laboratorio sparso su sei settimane e tutti questi inizieranno alla terza settimana quindi inizieremo la terza settimana con uno dei laboratori normali diciamo da da un'ora e mezza come vi ho già detto come in realtà stiamo facendo oggi l'eccezione a questo programma è che le prime due settimane faremo lezione invece di fare laboratorio questo in parte abbiamo già detto le lezioni saranno online useremo zoom questo stesso indirizzo a cui siete collegati che sarà valido per tutte le lezioni da qui a fine del semestre durante le lezioni commenti domande quant'altro come vi dicevo saranno gestite sul canale zoom che si chiama live lecture e che già esiste e che già potete usare per oggi ripeto visto che alcuni non sono ancora su zoom quantomeno dai numeri e potete anche usare la chat del di zoom di zoom ma dalla prossima volta cercheremo di usare unicamente slack per eventuali domande laboratori ve l'ho già detto iniziano la terza settimana quindi 15 marzo il testo sarà online ovviamente del laboratorio sul sito alcuni giorni in anticipo l'idea dei laboratori che voi li facciate durante le ore dei laboratori quindi sfruttiate quell'ora e mezza del laboratorio a settimana per lavorare sul testo del laboratorio in modo che se ci sono problemi cose che non si capiscono e curiosità relativa a quello che state facendo possiate chiedere avere immediatamente supporto da chi sarà lì dove lì vorrà dire Luca Mannella appunto e più eventualmente un borsista uno studente borsista che quest'anno avremo le soluzioni dei laboratori in ogni caso saranno poi messe a disposizione su github in un repository pubblico circa una settimana dopo la fine di ogni laboratorio quindi il laboratorio della settimana 1 avrà le soluzioni nella settimana 2 in realtà no il laboratorio della settimana 3 avrà le soluzioni nella settimana 4 perché la settimana 1 come ho detto prima non facciamo laboratori un'altra differenza sempre rispetto all'anno scorso per chi ne ha sentito è che i laboratori quest'anno anche dovuto al fatto che siamo online saranno in gruppo tutti i laboratori quindi già dalla terza settimana gruppi di 3 o 4 studenti decidete voi chi non è un problema come volete e quando avete deciso potete usare Slack se avete bisogno di aiuto per formare team nel caso in cui non vi conosciate una volta che avete formato il team compilate questo form nel cui appunto link è nelle slide prima del 14 marzo in modo che noi il 15 marzo sappiamo già chi appunto quale gruppo sarà presente in quale turno e possiamo organizzarci di conseguenza questi gruppi li useremo già subito dalla terza settimana li useremo già subito dalla terza settimana per i tre laboratori e normali diciamo ma ci serviranno soprattutto per i due Big Lab per questi che abbiamo chiamato Big Lab perché saranno soprattutto questi lavori di gruppo un pochino più grossi non solo come ore ma anche come effort in modo da essere diviso su più persone perché l'idea di questi Big Lab è che voi potete sottometterli e potete consegnarli e se consegnati ognuno di questi vi darà un punto in più all'esame quindi se consegnate come gruppo entrambi questi Big Lab potete prendere due punti all'esame se non li consegnate va bene uguale non è obbligatorio semplicemente non avrete questi due punti uno o due punti in più insomma massimo due punti in più all'esame e fra poco vi darò qualche istruzione in più e poi seguiranno il Big Lab inizieranno tipo alla settimana alla settimana 6 quindi c'è ancora un po' di tempo e vi daremo più informazioni in chat ho una domanda i gruppi possono anche avere membri del corso AL? meglio di no per il semplice fatto che i lavoratori sono in parallelo i nostri del corso MZ e quelli del corso AL quindi sarebbe un problema avere gruppi i gruppi cercate di farli all'interno del corso MZ e un'altra cosa che potete fare considerando i gruppi è che potete anche fare gruppi tra persone che vogliono seguire in presenza e persone che vogliono seguire online per cui magari due persone di un gruppo saranno in presenza in aula R3 e le altre due saranno collegate tramite computer per esempio e quindi potete comunque lavorare insieme anche se siete distribuiti anche se due sono in aula se siete tutti online ovviamente è più facile come funzioneranno i lab online? quelli in presenza dovreste essere abituato siamo in aula R3 quindi è un'aula senza computer quindi chi vuole venire a seguire il laboratorio dovrà portarsi un proprio computer un portatile mentre i laboratori online saranno su Zoom il link vi daremo il link e l'idea è che ogni gruppo avrà una sua breakout room quindi sarà in una stanza dove ci sono solo le persone del gruppo e queste persone potranno parlare scriversi in chat condividere lo schermo come vogliono saranno solo loro quindi potranno lavorare insieme potranno dividersi il lavoro totalmente a vostro piacere e noi entreremo in queste stanze solo quando ci chiamerete su Zoom c'è la possibilità di chiamare l'host che poi sarebbe il docente oppure passeremo di tanto in tanto per controllare che tutto vada bene che non ci siano problemi non ci siano domande nel caso in cui nessuno chiama questo mima un pochino quello che succede in presenza dove tipicamente spesso gruppi di studenti lavorano insieme o quantomeno vicini ogni tanto si parlano e il docente passa tra i tavoli tra le sedie oppure o spontaneamente oppure quando viene chiamato ecco noi l'idea è che cerchiamo di mimare un pochino questa stessa struttura il laboratorio dell'11.30 sarà trasmesso anche online? no il laboratorio dell'11.30 sarà interamente in presenza quindi il laboratorio delle 10 totalmente online per chi vuole chi non può venire online chi può venire in presenza diciamo così chi vuole venire in presenza può venire nel laboratorio in presenza ma essendo i laboratori identici non c'è veramente nessuna differenza ripeto se ci fossero gruppi misti di persone che possono venire in presenza e persone che non possono venire in presenza chi è in presenza può col proprio portatile col proprio computer aprire un qualunque sistema di videoconferenza che sia Skype che sia quello che preferite o Telegram o Slack o quello che volete e parlare con gli eventuali componenti del gruppo che non sono lì in presenza per potersi sincronizzare però no il laboratorio in presenza è totalmente in presenza il laboratorio online è totalmente online proprio per avere una distinzione anche netta tra chi frequenta l'uno e chi frequenta l'altro materiale materiale sul corso sul sito del corso che già avete ricevuto il link come avete visto ci saranno le slide ci sono le slide ci saranno le slide ci saranno in inglese c'è anche un calendario del corso in questo momento come vi dicevo fino riempito fino a Pasqua ma man mano che le settimane vanno avanti continuerò a riempirlo le video lezioni come questa che stiamo facendo saranno sono video registrate e saranno sia messe sul portale della didattica sia su una playlist YouTube e ogni volta in realtà che sarà caricata sulla playlist YouTube arriverà anche un messaggio su Slack in general che dice nuovo video caricato per cui voi potete se volete accedere direttamente al video della video lezione abbiamo anche un'organizzazione GitHub condivisa tra tutti e tre i corsi in cui carichiamo già le slide trovate già le slide in questa organizzazione ma caricheremo anche gli esempi gli esercizi i laboratori le soluzioni dei laboratori e così via come vi ho già anticipato nella mail useremo Slack per tutte le comunicazioni quindi non useremo le news sul portale non useremo le mail per tutte le comunicazioni vuol dire sia le comunicazioni da me verso di voi sia le comunicazioni da voi verso di me per esempio ma anche le comunicazioni tra di voi se vorrete molti di voi quasi tutti dovrebbero essere già sullo Slack del corso quindi già sapete che potete entrare con la mail studenti.polito che farà creare un nuovo account a questo indirizzo in questo momento ci sono quattro canali su Slack c'è il canale general che è iscrivibile solo da me e da Luca Mannella dove daremo annunci e informazioni ufficiali quindi questo è il link qua c'è ecco il nuovo video online questo tipo di informazioni che non richiedono diciamo risposte in maniera particolare useremo e voi siete incoraggiati in realtà a usare il canale discussion invece per domande per feedback per quando avremo bisogno di invece di avere un bot di risposta diciamo così su vari argomenti soprattutto magari tecnici ma anche non solo anche di svolgimento del corso se c'è qualcosa di poco chiaro e come vi dicevo durante le lezioni i commenti e le domande saranno gestite in questo canale che già esiste che si chiama Live Lecture sempre su Slack se non avete ancora completato l'immatricolazione per qualunque motivo e quindi non avete ancora la matricola nuova potete tranquillamente registrarvi su Slack con la mail della triennale se l'avete non è un requisito forte avere esattamente la mail aggiornata tanto più che poi il Politecnico fa il redirect tra la mail vecchia e la mail nuova quando l'avrete quindi quella della triennale non sparisce e se avete problemi perché non avete non siete ex studenti del Politecnico e non avete ancora la rimatricolazione ditemelo che vi posso invitare direttamente anche se non appartenete a studenti.polito.it non c'è problema l'importante è che siete lì poi con quale mail accediate è meno è meno importante diciamo è bloccato così su studenti.polito per evitare che chiunque possa accedere da qualunque parte del mondo ecco diciamo soprattutto per quello io farò anche in aggiunta tutto questo ricevimento studenti in un orario fisso in un giorno fisso che è il mercoledì dalle 4 alle 5 su Zoom a questo indirizzo che è in questa slide che poi metterò anche su Slack partendo da dopodomani se vorrete l'idea del ricevimento studenti è che io aprirò questa chiamata in quell'ora dalle 4 alle 5 del pomeriggio e sarò collegato se qualcuno di voi ha una qualche domanda curiosità non ha capito qualcosa sulle lezioni sui laboratori eccetera può collegarsi in un momento qualunque tra le 4 e le 5 non è necessario essere lì alle 4 puntuali ecco e fare la domanda dopo 5-10 minuti quando ha ricevuto la risposta e non altro a chiedere può staccarsi quindi liberamente potete collegarvi e fare domande una, due più di una eccetera e poi dopo che avete ricevuto ovviamente la risposta spero possiate invece poi staccarvi e continuare con la vostra giornata con il vostro pomeriggio se non si presenta nessuno non importa quella chiamata comunque sta aperta dalle 4 alle 5 e io sto collegato dalle 4 alle 5 quindi onore di ricevimento studenti libera in cui potete venire fare domande e anche privatamente se volete e possiamo parlare di qualche di qualche cosa in quell'ora può essere soprattutto utile se per esempio magari quando andremo avanti col corso ci saranno domande su magari progetti magari un progetto react che avrà più file quindi è più facile magari mostrare o fare una domanda su un codice sul codice che è distribuito su molteplici file a voce magari condividendo lo schermo piuttosto che non magari facendo gli screenshot o facendo copia e incolla di codice in Slack è solo più facile quindi magari può essere una buona idea sfruttare questo momento se vorrete una cosa su Slack che mi sono dimenticato di dirvi noi cercheremo di rispondere in tempi ragionevoli dove questi ragionevoli vuol dire che insomma nella giornata sicuramente sì a volte anche dopo 10 minuti io Slack ce l'ho sempre aperto perché lo uso anche per altre cose anche per lavoro e quindi quando scrivetelo lo vedo subito ovviamente se scrivete il sabato sera alle 11 di sera ecco non aspettatevi una risposta in 5 minuti aspettatevi una risposta per lunedì ma diciamo se scrivete orari normali giornalieri di giorno dal lunedì al venerdì è facile è molto facile che la risposta sia molto veloce poi una domanda sul deve effettuare l'esame in inglese su casi particolari e sul congelare il voto non sono un grande fan del congelare il voto perché in realtà poi non si sa quando si scongela però magari scrivimi dopo privatamente su Slack se avete casi particolari eviterei di discuterli adesso video registrati su YouTube eccetera quindi in questo caso magari scrivimi ma in generale non sono un grande fan del congelare i voti per il prossimo futuro quando il prossimo futuro non è non è chiaro però appunto casi particolari magari parliamo uno a uno che è più facile ok quindi questa è l'organizzazione del corso finora parliamo un attimo dell'esame che credo che sia un argomento che possa essere abbastanza interessante per voi l'esame è composto di tre parti una la sapete già la valutazione dei big lab che sono opzionali cioè solo se li sottomettete se non li sottomettete questa parte non esiste e vi danno due punti fino a due punti sul voto dell'esame ecco se voi prendete i punti delle parti precedenti che adesso vi racconto vedete che non arrivate al 30 load quindi consegnare big lab è l'unico modo se fate tutto ottimo in maniera perfetta diciamo così di arrivare al 30 load altrimenti vi fermate diciamo così solo al 30 le altre due parti cosa sono sono lo sviluppo e la consegna di un progetto che deve essere fatto in maniera individuale quindi mentre i laboratori sono fatti in gruppo questo progetto per l'esame è individuale questo progetto per l'esame vi dà fino a 24 punti con un minimo di 12 per cui se non prendete 12 nella consegna nella valutazione di questo progetto siete bocciati e avete 20 giorni di tempo per svilupparlo cosa vuol dire vuol dire che noi vi diamo le specifiche 20 giorni prima dell'appello dell'esame di ogni appello dell'esame quindi in quei 20 giorni voi potete sviluppare questo progetto una volta che sviluppate il progetto e lo consegnate noi lo correggiamo e organizziamo in base anche a quante persone sono iscritte all'appello una discussione orale sul progetto quindi non vi chiediamo cose che non sono presenti nel progetto se non cose che avete utilizzato nel progetto e di nuovo è individuale e che è obbligatoria quindi non potete consegnare il progetto e non fare l'orale e la discussione orale vale fino a 6 punti quindi 24 più 6 più 2 eventualmente più 2 che cosa si tratta cos'è questo progetto dello sviluppare è un'applicazione web utilizzando le tecnologie che vedremo durante il corso utilizzando React JavaScript utilizzando Node più Express che è il framework server side che vedremo e utilizzando SQLite per il database quindi un'applicazione web con le tecnologie che vedremo durante il corso secondo delle specifiche funzionali che vi daremo come vi dicevo 20 giorni prima di ogni dato d'appello il che vuol dire che per ogni appello ci sarà un progetto diverso che non si può ovviamente portare da un appello all'altro se non l'avete finito quindi avete 20 giorni di tempo per provare a sviluppare questo e consegnarlo come vi dicevo individualmente e noi lo valuteremo provando l'applicazione in un sistema Linux e come appunto 2010 e poi guardando il codice che avete sviluppato la discussione orale è soprattutto per verificare in un certo senso che il progetto che avete consegnato l'abbiate fatto voi o che quantomeno abbiate capito che cosa fa e sappiate raccontarlo sapete rispondere alle domande su questo specifico progetto quindi come dice qui per assicurarsi che ogni studente ha sviluppato il progetto e per valutare quanto ogni studente sappia spiegare il comportamento esatto di quello che fa il progetto e noi lo valuteremo questa parte orale sulla conoscenza teorica e pratica della progettazione quindi di quello che avete fatto di quello che avete deciso di fare nel progetto e di quello che avete scritto come codice all'interno del progetto e inoltre la chiarezza e la rapidità se volete nelle risposte durante il progetto una domanda giustissima è arrivata in chat è necessario sviluppare il progetto su Ubuntu o va bene anche il nostro sistema operativo principale va bene anche il vostro sistema operativo principale adesso lo vedremo quando parleremo di JavaScript nell'ora dopo ma l'idea è che voi possiate sviluppare dove volete io per esempio gli esempi li mostrerò su Mac quindi con Node perché in realtà JavaScript dovete installare Node anzi vi ho già chiesto di installare vi serve un browser che è indipendente del sistema operativo e vi serve Node noi lo proveremo su Ubuntu 20.10 giusto per avere uniformità tra tutte le correzioni in modo da evitare io l'ho sviluppato su Windows 98 e funzionava sul mio computer ma non funziona sul computer del docente allora l'idea è questa voi potete svilupparlo dove volete io prevedo che al 99,9% dei casi non ci saranno differenze tra svilupparlo su Windows o svilupparlo su MyEc o svilupparlo su Linux e poi provarlo su Linux se usate certe accortezze per le cose che utilizziamo durante il corso quindi voi sviluppatelo pure dove volete sappiate che noi e io in questo caso lo proverò nel caso in cui qualcosa non funzioni magari sul mio computer lo proverò su Ubuntu 20.10 lì deve funzionare quindi magari prima di consegnarlo fate un run in una macchina virtuale 5 minuti se tutto funziona fine potete consegnarlo senza problemi a livello di a livello tecnico a livello di Node e a livello di React non ci sono differenze tra i tre e i sistemi operativi l'unica differenza è che Linux è case sensitive mentre gli altri sistemi operativi no tipicamente per cui se voi avete un file che si chiama prova.js minuscolo e lo importate come prova.js maiuscolo Windows e Mac non vi danno storie su Linux invece vi compare un errore perché quel file non esiste perché quel file si chiama diversamente sul sistema operativo questa è una cosa che Linux rinforza gli altri due sistemi operativi no ma in realtà è una buona pratica proprio di sviluppo magari chiamare le cose esattamente nello stesso modo in cui avete chiamato il file quindi se avete un file che si chiama prova.js scritto minuscolo importatelo come prova.js minuscolo e non ci sono problemi se lo rinominate ricordatevi di rinominarlo nel codice e tutto il resto funziona non ci sono per quello che facciamo noi quantomeno nel corso di nuovo grosse differenze a livello di dipendenze o a livello di funzionalità tra i tre sistemi operativi e nod ok domande sull'esame a parte quelle che sono già arrivate ovviamente si può rifiutare il voto sì in realtà adesso vado a memoria ma dopo lo scrive dopo la consegna del progetto vi diciamo quanti voti quanti punti avete per cui voi potete fare due conti e se sapete che se avete preso 24 per dire sapete che più 6 sapete dove arrivate più massimo 6 sapete dove arrivate se prendete 13 o 12 sapete qual è il voto massimo potete puntare quindi se quel voto massimo non vi piace semplicemente non presentate l'orale non scrivete l'orale e riconsegnate il progetto l'appello successivo intanto le valutazioni di questi Big Lab dovreste averli come voti e prima e quindi sapendo che questo è massimo 6 punti questo voto ce l'avete è facile fare il conto e i punti legati a Big Lab sono validi per un anno intero quindi dalla sessione di giugno fino alla sessione di febbraio 2022 inclusa quindi prima che il corso rinizia un'altra volta diciamo così quando poi rinizia il corso i punti vengono annullati sì con questa modalità le specifiche del secondo appello arriveranno durante il primo perché di solito non ci sono 20 giorni di differenza di due appelli sì spesso capita così questo è vero può capitare in realtà non sempre però è vero che capita che a volte non ci siano 20 giorni di differenza tra due appelli ma ce ne siano meno a volte 14 a volte 21 ma spesso 14 e quindi può capitare che le specifiche del secondo appello arrivino prima che abbiate completato il primo appello e quindi per il primo e il secondo appello quantomeno per gli appelli giugno-luglio dovete decidere se puntate sul primo o sul secondo allora i laboratori sono strutturati in modo da doversi dividere i task tra i membri del team o tutti dobbiamo concordare su tutto il codice i laboratori sono strutturati come volete voi ma i laboratori sono strutturati ad obiettivo in un certo senso soprattutto i big lab cioè bisognerà fare queste cose in queste quattro settimane poi se voi decidete ci sarà un laboratorio in cui è più facile dire ok io faccio un pezzo tu fai un pezzo tu fai un altro pezzo e i laboratori in cui invece richiederà un pochino più di lavoro magari fatto insieme sicuramente nel momento in cui consegnate il codice quella è la consegna di gruppo quindi ovviamente tutto il gruppo deve essere consapevole di quello che avete consegnato e essere d'accordo per fare quella consegna così com'è il voto del big lab è booleano direi ni nel senso che l'idea questo poi questo è il primo anno che facciamo un big lab quindi stiamo anche un po' ancora decidendo diciamo ma l'idea è che un big lab voi possiate prendere 0, 1 o 0,5 quindi non è propriamente magari booleano ma non è neanche io ho dato 0 ho dato 0,1 ho dato 0,12 ecco non andiamo a impazzire con queste cose potrebbe essere 0, 0,5 0,5 e 1 quindi tre fasce quindi non proprio booleano ma è neanche totalmente numero continui reali ecco ok se per caso vi venisse in mente altre domande scrivete pure risorse noi useremo una serie di risorse durante il corso che a volte usiamo per creare le slide e quindi sapere cosa vi racconteremo ma sono risorse che voi potete anche utilizzare indipendentemente se avete un dubbio una curiosità un qualcosa che magari non avete capito bene dal video o dalla lezione o per saperne qualcosa in più magari durante lo sviluppo del progetto vi serve avere un'informazione puntuale specifica su React e allora vi conviene andarla a vedere nella documentazione di React allora un po' di risorse sicuramente la risorsa principale per l'intero sviluppo web è il Mozilla Developer Network a questo sito developer.mozilla.org che veramente ha tantissime informazioni a tantissimi livelli su tutto quello che riguarda le tecnologie web quindi HTML CSS JavaScript ma come vedete anche qui in questa immagine Learn Web Development ma anche Web Technologies quindi ha delle guide ha degli esempi ha un sacco di materiale che può essere utile anche indipendentemente anche al di là del corso come vedete qui per esempio c'è grafica HTTP API MatML tutorial accessibilità sviluppo dei giochi sempre in ottica web quindi cose che anche noi non copriremo nel corso perché è un corso da 6 crediti non da 60 e quindi ovviamente non possiamo fare tutto e quindi questa è un'ottima risorsa anche per il futuro da tenere sott'occhio e consultare quando ne avete bisogno un'altra cosa utile sarà React il sito di React che ha anche un po' di documentazione o un po' di tutorial per appunto capire magari certe cose o approfondire certi argomenti se ne avete bisogno o utilizzare un qualcosa che magari volete utilizzare per il progetto ma non abbiamo ancora magari finito di spiegare o spiegato del tutto o quant'altro quindi anche il sito di React è molto utile come per consultazione sporadica o di nuovo al di fuori del corso nel futuro anche ci sono poi una serie di libri di JavaScript che noi utilizziamo e abbiamo utilizzato per preparare le slide non siete non dovete comprarli non dovete acquistarli o consultarli frequentemente non dovete averli quello che facciamo durante il corso è più che sufficiente per sostenere e superare con successo l'esame e anche imparare a fare le cose che è altrettanto importante però giusto per darvi alcuni riferimenti nei questi li abbiamo usati anche per supportare le slide e anche per prepararle come riferimento c'è questo libro JavaScript The Definitive Guide che è un po' vecchiotto ma è ben fatto nel senso che è nel 2011 e JavaScript è molto cambiata dal 2011 al 2021 sono passati 10 anni un altro libro invece JavaScript The Definitive Guide che dovrebbe essere uscita a luglio dell'anno scorso quindi è un pochino più recente e poi invece quindi questo è su JavaScript in generale come linguaggio e poi invece c'è questo libro su React che è fatto abbastanza bene non è è abbastanza aggiornato gennaio 2020 ma quando si parla di React questo gennaio 2020 è più di un anno fa e React ha degli aspetti che sono cambiati degli aspetti che quando è stato appunto pubblicato a gennaio 2020 erano magari in beta o erano ancora non stabili e adesso invece sono diventati mainstream e sono diventati utilizzatissimi però questi sono tre possibili libri da se volete sempre tenere sott'occhio quelli sono libri diciamo così a pagamento da comprare poi esistono una serie di libri ben fatti come questi che riportiamo qua che sono molto più corti e sono online e sono gratuiti o richiedono solo la registrazione per esempio c'è una serie di libri questa qui gialla che si chiama You Don't Know JavaScript Yet e che è un libro sono libri abbastanza carini non particolarmente lunghi che affrontano vari argomenti di JavaScript anche in maniera molto approfondita in alcuni casi anche più approfondita di quello che possiamo fare noi in questo corso quindi sono ben fatti sono su GitHub e sono praticamente gratuiti e accessibili a tutti e poi ci sono questi handbook quindi libri molto molto corti a modo di tutorial quasi che raccontano alcune cose principali e alcune cose importanti su vari argomenti e molti più di questi cinque mostrati in slide e sono di questo signore che si chiama Flavio Copes e anche questi gratuiti bisogna solo registrarsi sul sito se siete interessati e ha fatto questa signora ha fatto un handbook su JavaScript uno su CSS uno su HTML uno su Node e uno su React per dare giusto le informazioni diciamo così essenziali per poter partire e poter lavorare anche questi sono molto carini e volendo potete dargli un'occhiata ce ne sono molti di più di questi cinque ma questi sono i cinque che riguardano più da vicino il nostro corso quello che faremo altri libri online Speaking JavaScript Deep JavaScript e JavaScript for the Patient Programmers quindi risorse su JavaScript anche questi abbastanza recenti e anche questi abbastanza ben fatti quindi risorse su JavaScript tante e soprattutto in termini soprattutto da tenere d'occhio quando sono recenti nel caso in cui vogliate approfondire qualcosa in più rispetto a quello che faremo nel corso sempre anche in ottica di futuro in aggiunta ai libri ci sono anche un sacco di altre risorse online come per esempio The Modern JavaScript Tutorial che è un sito in cui ha una serie di tutorial specifici su alcuni aspetti di JavaScript come linguaggio di programmazione in generale e noi alcuni di questi li utilizzeremo o come vi dicevo li abbiamo usati per la preparazione del materiale per il corso infine i tool io ve l'ho già anticipato via mail ma essenzialmente ne utilizzeremo Node come ambiente di sviluppo e poi ci servirà un browser preferibilmente Chrome o Firefox in una versione relativamente aggiornata utilizzeremo Node.js per la programmazione in JavaScript oggi già oggi queste settimane e utilizziamo la versione 14.15 che è quella long term quella supportata a lungo termine quindi non quella non l'ultimissima versione quella diciamo stabile ma non supportata a lungo termine in modo da avere un set di feature stabili e coerenti per l'intero corso e Node si può installare scaricandola per Windows e per Mac che si può scaricare direttamente dal sito se invece utilizzate Linux potete seguire queste istruzioni a questo sito che comunque sono istruzioni ufficiali anche se sono ospitate su GitHub in aggiunta a questo ci serve come vi ho detto Chrome o Firefox e potete installare per quando inizieremo a lavorare su React questo React Developer Tool che è un'estensione per il browser sia per Chrome sia per Firefox quindi se voi scegliete Chrome scaricatela per Chrome altrimenti scaricatela per Firefox otteneteli due come preferite e che vi dà una serie di aiuti e supporti all'interno del browser per quando programmeremo in React quindi questa estensione è da tenere d'occhio e poi da installare per quando ci servirà verso metà corso dopo Pasqua direi che iniziamo React se non ricordo male e infine l'ambiente di sviluppo noi per sviluppare utilizzeremo tutto da qui a fine corso utilizzeremo Visa Studio Code che è un supporto nativo per JavaScript quindi non c'è niente da installare e si comporta anche molto bene con React e quant'altro ed è disponibile per tutti i sistemi operativi gratuitamente quindi andate su se non l'avete ancora fatto andate su code.visostudio.com e scaricate l'ultima versione disponibile per il vostro sistema operativo domande ok allora domande allora una alla volta quando si installa quando si installa l'installer chiede se si vuole installare anche Cioccolatei ve lo chiede sotto Windows Cioccolatei è un gestore di pacchetti per Windows come apt-get ma per Windows come volete voi non è strettamente necessario per noi va bene ugualmente la versione 14-16 di node se è LTS sì e dobbiamo installarlo che cosa node Visual Studio Code tutto ah Cioccolatei ok ho già risposto ok quindi dicevo come continuiamo questa questa lezione e la prossima io quello che farei adesso è oggi iniziamo JavaScript come linguaggio di programmazione io quello che farei adesso è se non avete altre domande una pausa abbiamo tre ore di fila io tenderei a fare o una pausa un po' lunga in genere oppure due pause brevi visto che sono le 11 scarse potremmo oggi provare a fare due pause brevi visto che la prima parte non è stata particolarmente complessa o difficile da capire così in questa pausa ci pensate anche a quello che abbiamo appena detto se avete domande quindi io quello che farei sono 5 alle 11 è una pausa di 5 minuti adesso e poi riprenderei alle 11 con JavaScript io fermo la registrazione metto di condividere lo schermo ma ovviamente zoom rimane aperto ci vediamo fra 5 minuti per riprendere e iniziare a lavorare su JavaScript come linguaggio di programmazione e iniziare a lavorare